Siamo qui con il signor Calaschi Antonio che ci parlerà di lifting non chirurgico. Che cos'è e come viene effettuato? Il lifting non chirurgico è una procedura che viene utilizzata da alcuni anni che permette di rallentare la necessità, l'obbligo. Come funziona? Funziona utilizzando una sorgente, in questo caso ultrasuoni focalizzati, che per mezzo di un principio termico stimolano l'organismo, in questo caso il derma, la cute, la pelle, a produrre più collagene, a diventare più elastica, stimola in profondità il muscolo a contrarsi, quindi senza bisogno di sottoporsi ad un intervento chirurgico che comunque ha delle sequele post trattamento più lunghe e ha delle problematiche più importanti, permette di avere un ottimo risultato volumetrico, un miglioramento della volumetria del viso o del collo, che sono normalmente le aree corporee alle quali più si rivolge il trattamento e che vengono più richieste, molto molto gradito dai pazienti e con un disagio minimo. Chi si rivolge a voi in generale? A noi in generale si rivolgono i medici, noi ci occupiamo esclusivamente del settore medicale, quindi il chirurgo plastico, il dermatologo, il medico estetico, tutti i medici di alto livello in quanto sono apparecchiature che per poter essere utilizzate al meglio richiedono comunque dell'esperienza, richiedono dell'abilità, della conoscenza anatomica importante e soprattutto un pochettino di esperienza nei corsi, perché fare un trattamento di questo genere è abbastanza impegnativo, quindi richiede un po' di esperienza, anni di esperienza insomma. Perfetto, per Beauty Advisor è tutto, grazie mille.